Buona, ma cosa diciamo? Buonissima, ma cosa no? Buonissima, ottima, ottima presentazione di Tiago Motta davanti ai microfoni che dice quello che pensa e vuole proprio mettere i punti determinanti alla nuova stagione della Juventus che valorizza i giocatori, ognuno ha la sua importanza con i giocatori che ha e che valorizza ogni singolo punto che dice. Sottolineando l'importanza della preparazione della nuova stagione nonostante la stagione più lunga di sempre, perché ha dichiarato e ha detto che ci sarà una nuova stagione lunga con tante competizioni e tanto lavoro, tanto lavoro, perché ovviamente con tante competizioni ci sarà tanto da lavorare e tanti allenamenti. ha puntualizzato gli acquisti della squadra, ha parlato di nuovi acquisti Douglas Ruiz, che ha dato fiducia alla squadra, ha valorizzato i giocatori giovani che vogliono essere valorizzati e essere pronti per Tiago Motta, che ovviamente devono memorizzare anche lo schema di gioco di Tiago Motta. Poi ha parlato di Rabiot e i precedenti nuovi giocatori che non fanno più parte della Iventus, ha salutato come ho detto Rabiot e poi ha detto che vuole far sì che la Iventus faccia del suo meglio, i giocatori devono essere valorizzati nelle loro caratteristiche che lui cercherà sempre di trovare nuovi stimoli e diciamo che abbiamo visto ovviamente abbiamo visto proprio un'impressione diversa, proprio un'espressione diversa, perché appena che abbiamo visto Tiago Motta abbiamo già sentito odori di aria pura, odori di aria nuova e nuovo spirito di squadra e ovviamente di mentalità, perché la Iventus ha bisogno di una nuova mentalità e con Tiago Motta ci è riuscita, anzi tenterà di riuscirci anche se la stagione sarà lunga e perentuosa, 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 vabbè, nuovo termine così, venuto in mente così comunque abbiamo visto un Tiago Motta tranquillo, abbiamo visto un Tiago Motta tranquillo con le sue idee che ha saputo già puntualizzare e ha fatto, diciamo, tra virgolette, tacere ad altri giornalisti che hanno punzecchiato con qualche domanda un po' troppo, diciamo, spinta anche se i giornalisti vogliono un po' capire adesso come sta andando la situazione Iventus con questi nuovi acquisti, come Tiago Motta riuscirà a ingranare con questi nuovi giocatori nuovo assetto tattico e vuole concentrarsi soltanto nelle sue possibilità di fare una buona stagione che i giocatori si divertono tra virgolette ad ogni partita che non si sminuiscono ad ogni fine partita che devono entrare nello spirito di mentalità anche se a fine partita ci sarà dei momenti negativi anche se ovviamente vincere o perdere non è, cioè, vincere o perdere è anche importante però ha puntualizzato che vuole far capire che devono finire la partita in maniera in maniera che non si sminuiscono, cioè, devono far sì che si sono contenti della prestazione che ogni partita fanno, ogni squadra che incontreranno cercheranno sempre di concentrarsi nel gioco, nel sapere come giocarsela ogni partita, non ha tanto puntualizzato che ogni partita sarà difficile ma ovviamente forse l'ha detto ma non mi ricordo, però ha detto che le partite sono importanti anche se ovviamente ogni giocatore deve deve metterci del suo, cioè, ovviamente con Allegri non poteva affidarsi a un giocatore singolo ognuno deve contribuire al suo ruolo e a sapere che può dare di più perché Tiago Motta vuole espandere di più la conoscenza dei suoi giocatori la volontà di fare crescere i giovani e di intraprendere un colloquio, un colloquio da parte dei giocatori e avere scambi di opinioni tra lui e Tiago Motta e Giuntoli perché è importante anche la comunicazione tra Tiago Motta e Giuntoli perché ovviamente con l'altro allenatore sono a perdere, con Allegri non c'era comunicazione, con Allegri non c'era comunicazione con Tiago Motta e Giuntoli si sono trovati, si sono trovati subito perché hanno un punto di impatto, hanno un punto di idee penso, spero, ma ovviamente si vede perché Contiamo Motta si è visto un atteggiamento diverso, una mentalità diversa e anche idee volute da un allenatore giovane che vuole espandere il suo modo di giocare in maniera che anche i giocatori si abituano al suo stile di gioco però questo è importante e speriamo che faccia del suo meglio anche per valorizzare ovviamente i giocatori anche se questa cosa l'ho ridetta però in competizione europee vedremo vedremo ha detto che non guarda le altre squadre guarda la sua squadra la sua idea la sua idea di portare calcio e non guarda le altre squadre questo è importante ha detto anzi è importante anche per noi perché bisogna concentrarsi in casa in casa in casa propria non guardare le altre squadre e vedremo ragazzi vedremo vedremo ma ci sarà da divertirsi anzi ci sarà tanto da da conoscere questo allenatore perché ci sarà tanto tanto da dire non non ci non ci manca niente ci basta solo la fiducia la voglia di lavorare e la voglia di divertirsi e ritornare a tifare Juve allo stadio appunto a posto e niente ragazzi questo è il mio pensiero tutti mi vogliono sotto nei commenti una bella presentazione ufficiale la prima di Thiago Motta la prima di di Tante che non ci sarà tanto da annoiarsi con questo allenatore non ci sarà tanto da annoiarsi e dico finalmente perché questa è l'importanza di avere un allenatore utile alla mentalità della squadra a posto ragazzi io quello che ho detto quello che ho detto l'ho l'ho detto l'ho ricepito ho parlato tanto ditemi la vostra sotto nei commenti mettete mettete un mi piace condividete e benvenuto Thiago Motta ciao ragazzi a posto bene in analisi vedremo vedremo dai datemi un feedback ciao ragazzi ciao